In ginocchio. Vado in piazza, mi inginocchio a terra e aspetto. Aspetto di vedere se si materializza l'uomo che cammina di Giacometti, se si ferma il pensatore di De Chirico, fino all'impossibile discesa a terra di uno degli angeli di Wim Wenders. Visioni urbane, stilizzazione di uomini che camminano. Per Giacometti l'uomo che cammina era senza meta, apparentemente un camminatore, in realtà un esole disfatto, un relitto. Per quelli che inquadro io, credo siano tutti invece con una meta, un appuntamento, un familiare che li aspetta a casa o colleghi di lavoro.